Insegnante di Ribera trovato morto nel Palermitano, indagini in corso. Due incidenti stradali nel Nisseno, un morto, il primo episodio nelle vicinanze di Mazzarino e il secondo a breve distanza dalla zona industriale di San Cataldo. Caltanissette, interrogato il 50enne arrestato dopo l'incendio in un'abitazione di via Dusmet. Interventi di manutenzione straordinaria in diverse strade del capoluogo Nisseno. Le vie dei tesori nel fine settimana, diverse visite in programma. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca. Insegnante di Ribera trovato morto nel Palermitano, indagini in corso. È mistero sulle ultime ore di un insegnante di 53 anni di Ribera che è stato ritrovato morto questa mattina a Bisacquino, in provincia di Palermo, dove svolgeva la sua professione. L'allarme era scattato già da 24 ore, dopo che l'uomo, uscito normalmente come ogni mattina da casa sua per recarsi nel piccolo centro palermitano, non aveva fatto il ritorno una volta conclusa la giornata lavorativa, al termine della quale non aveva però partecipato nemmeno alla riunione dei docenti della scuola dove lavorava. La moglie del professionista aveva presentato denunce ai carabinieri, preoccupata dal mancato ritorno del consorte. Ore di ansia in attesa di notizie che purtroppo hanno avuto il loro tragico epilogo nella mattinata di oggi. Adesso sarà il momento delle indagini da parte degli investigatori, soprattutto per cercare di stabilire le cause del decesso, gli eventuali spostamenti dopo che di lui si erano perse le tracce e capire se abbia o meno incontrato qualcuno. Due gli incidenti stradali nel Nisseno. Si registra anche un decesso. Il primo episodio nelle vicinanze di Mazzarino, il secondo a breve distanza dalla zona industriale di San Cataldo. Una persona è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Piazza Armerina, nel tratto che attraversa la zona di Mazzarino. Due veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro 63. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caltagirone, un'ambulanza e anche un elicottero del 118, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i componenti del personale dell'ANAS per piazzare la segnaletica e deviare il traffico tra il chilometro 62 e il chilometro 64. Un incidente con conseguenze meno gravi si è registrato all'altezza della zona industriale di San Cataldo nella serata di giovedì. Due auto, una 500 e una Panda, si sono scontrate nei pressi dell'Airpub e quest'ultima vettura si è ribaltata con il conducente che ha riportato un trauma al viso, come accertato dai medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ed è stato interrogato il cinquantenne arrestato dopo l'incennio in un'abitazione in via Dusmet. Al giudice che lo ha interrogato ha detto di avere appiccato il fuoco alla propria abitazione in quanto voleva cacciare da casa gli intrusi che sosteneva occupassero la sua casa. In sintesi è quanto ha dichiarato il cinquantenne arrestato due sere fa dalla polizia con l'accusa di incendio doloso al seguito del rogo che ha distrutto l'abitazione di via Cardinale Dusmet nel quartiere Santa Flavia. L'indagato, nel rispondere alla GIP Emanuela Carrabotta, ha dichiarato di soffrire di depressione, di non mangiare da diversi giorni, sostenendo che quando era al buio da solo in casa sentiva i rumori causati da persone che occupavano l'abitazione, sporcavano e rompevano oggetti e che si nascondevano non appena accendeva le luci. E allora, per farli scappare, ha appiccato il fuoco in modo che il fumo causato dall'incendio li costringesse a uscire. In base alla versione sostenuta dall'uomo, l'avvocato difensore Giuseppe Daqui ha chiesto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere dell'indagato, oltre a sollecitare gli arresti ospedalieri in una struttura psichiatrica. L'uomo ha anche sostenuto di essere attualmente in cura al Dipartimento di Salute Mentale. L'APM Simona Russo ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere. L'uomo era stato arrestato dalla polizia la sera stessa dell'incendio, dopo essere stato sorpreso con l'accendino in mano. Mentre vagava in via Duzmet subito dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ora si attende che la Jeep Carrabotta faccia conoscere la propria decisione. E ancora cronaca ai domiciliari per minacce e resistenza ai carabinieri, l'episodio avvenuto nell'Agrigentino. Disposti gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida per un 51enne di Santa Margherita Belice in provincia di Agrigento per minacce e resistenza ai carabinieri. L'uomo si era recato negli uffici del comune, spinto da un forte stato di necessità, e aveva chiesto al funzionario che lo ha ricevuto un posto di lavoro in maniera insistente. Quando l'interlocutore, vista la situazione, si è mostrato titubante, l'uomo è andato in escandescenza e ha aggredito sia verbalmente che fisicamente il funzionario, minacciandolo anche di morte. Il trambusto ha richiamato parecchia attenzione e subito sono stati allertati i carabinieri della stazione di Santa Margherita Belice, che sono accorsi prontamente in municipio. L'uomo nel frattempo si era allontanato, ma gli investigatori sono riusciti a rintracciarlo a casa sua. Solo che, quando i carabinieri si sono presentati in casa del disoccupato, quest'ultimo non si è mostrato affatto arrendevole, anzi tutt'altro, visto che ha minacciato di morte pure i militari, brandento un coltello da cucina. Dopo averlo bloccato, i militari hanno avvertito la procura e i magistrati hanno disposto gli arresti domiciliari. E cambiamo argomento. Nelle ultime 24 ore sono 45 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 11 pazienti di Caltanissetta, 9 di Gela, 6 di Resuttano, 6 di Butera, 4 di Mussomeli, 3 di Niscemi, 1 di Delia, 1 di Milena, 1 di San Cataldo, 1 di Sera di Falco, 1 di Sommatino e 1 di Sutera. Ricoverati in degenza ordinaria un paziente di Sommatino e 1 di San Cataldo. Dimessi dalla degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e uno proveniente da fuori provincia. Guariti dal Covid-19, 16 pazienti di Gela, 13 di Caltanissetta, 4 di Delia, 4 di Mussomeli, 2 di Niscemi, 2 di San Cataldo, 2 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Campofranco, 1 di Mazzarino, 1 di Montedoro e 1 di Sommatino. E adesso ci spostiamo a Eraclea Minoa, nel sito archeologico rilevati circa 30 scavi abusivi. I dettagli nel servizio. Nuovo ride dei tombaroli nel sito archeologico della Magna Grecia di Eraclea Minoa. Ancora una volta i cercatori abusivi di antichità hanno deturpato e rubato in una delle aree archeologiche siciliane più importanti. Un impiegato del polo museale di Eraclea, recatosi nella zona archeologica, ha scoperto che una porzione di terreno era praticamente stata ridotta a un groviera da una trentina di scavi abusive. Buchi di diametro compreso dai 10 ai 30 centimetri, aperti dai tombaroli che si erano messi alla ricerca di vasi su pellettili e qualsiasi oggetto di valore storico. L'impiegato ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nella zona sono presenti alcuni impianti di videosorveglianza e la speranza di inquirenti e investigatori è quella di riuscire a dare rapidamente un volte un nome ai responsabili, anche per recuperare l'eventuale bottino, prima che magari venga venduto a collezionisti senza scrupoli che pagano fior di quattrini pur di avere in casa beni che invece dovrebbero essere custoditi nei musei. Alcuni anni fa, nel territorio nisseno, con il blitz Demetra da cui è scaturito un processo attualmente in corso, venne smantellata una rete di tombaroli attiva nella nostra provincia e che aveva contatti con alcuni clienti facoltosi del Nord Italia e addirittura una ramificazione a Londra. Sono iniziati i lavori per la ricostruzione del tratto della strada provinciale 24 Scillato-Caltavuturo, danneggiato dalla frana che nel 2015 aveva coinvolto anche il viadotto Imera della 19 nel Palermitano. Gli interventi sono stati appaltati dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana sulla base di un finanziamento pari a 9 milioni di euro. Il progetto, che include opere di contenimento e sistemazione idraulica, prevede la costruzione di un viadotto in acciaio su quattro pile per scavalcare la frana. La durata del cantiere sarà di poco più di un anno e mezzo, con il completamento dell'opera previsto per il mese di aprile 2024. E adesso parliamo di interventi di manutenzione delle strade nel capoluogo nisseno. Procedono i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano per l'anno 2022 nell'ambito dell'accordo quadro in città. Si susseguono infatti le ordinanze con le indicazioni sui divieti di sosta temporanei per permettere i lavori di scarifica e bitumatura. Da fine agosto fino ad ultimazione dei lavori, previste in otto giorni, era stato istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata in amboilati, in via Rampolla, via Dalmazia, via Le Trieste, tratto compreso tra il civico 197 e il civico 219, via Le Trieste, tratto compreso tra l'incrocio con la via Lamantia e l'incrocio con la via Luca Pignato, compresa la stradella interna che costeggia il recinto dell'istituto magistrale, via Mozart. Dal 7 settembre invece il divieto di sosta fino ad ultimazione dei lavori riguarda la via Savarese, in amboilati, e via De Amicis, lato destro, in direzione casa circondariale, tratto compreso tra l'incrocio con la strada di collegamento con la via Benedetto Croce e il civico 106 della via De Amicis. E mentre altre vie verranno interessate da interventi, si sta lavorando anche sul verde in città. La villa mede è ancora chiusa per permettere la realizzazione dei lavori che riguardano sia il verde, l'aria giochi, fontana, pavimentazione e illuminazione, e intanto in alcune arterie sono già stati effettuati interventi su siepi, sparti traffico e anche potatura degli alberi. Dopo la via Paladini, la manutenzione sta interessando altre zone, come via Domminzoni, via Romita, via Ferdinando I, e si pensa anche alle reverdi presenti nelle scuole e asili comunali. Andiamo alla manifestazione Le vie dei tesori, comincia questo weekend, anche a Caltanissetta, sono 15 i siti interessati. Le vie dei tesori torna in città a partire da questo weekend, tra fine settimana dedicati alla storia, cultura, arte e anche natura, sino al 25 settembre. L'edizione di quest'anno della manifestazione abbraccia ben 15 siti a Caltanissetta, comprendendo anche due location San Cataldesi, e si realizzerà grazie anche al supporto del Comune, al lavoro di un gruppo di cittadini, Alice Bifarella, Luigi Garbato, Michele Mendolia-Calella, Aurelia Speziale e Pasquale Tornatore, e alla collaborazione di diverse realtà del territorio, e non solo, privati, enti ed istituzioni. Già da questo sabato e domenica si potranno visitare, dalle ore 10 alle 12.10, l'archivio del Liceo Ruggero VII, con tutti i nomi celebri che nel passato hanno frequentato la scuola e la biblioteca comunale. Dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, la Casa del Mutilato, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Istituto Maddalena Calafato. Dalle 10 alle 12.40 e dalle 17 alle 19.40, la Cripta della Cattedrale. dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30, l'ex Palazzo delle Poste. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.50, il Museo Averna. Solo sabato, dalle 10 alle 11, il Palazzo del Seminario Vescovile e il Museo Diocesano. Il Museo Sostavisiva, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, il sabato, mentre fino alle 18.30, la domenica. L'ottocentesca Villa Benintenda Sarisi, dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.00. solo la mattina, dalle 10 alle 12.15, il Serbatoio dell'Acqua di Monte San Giuliano e infine a San Cataldo, dalle 10 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.00, la Chiesa delle Anime del Purgatorio e Cripta Cimiteriale e la Chiesa di Santa Lucia. Durante i tre weekend, prediligendo sempre la prenotazione, si prevedono anche delle esperienze tra degustazioni, vulcanelli ed ex miniere e anche una passeggiata nel quartiere Provvidenza. Numerosi giovani che verranno coinvolti nel progetto. Nasce l'Osservatorio regionale sull'idrogeno. All'Assessorata all'Energia è stato firmato il decreto che ne ufficializza l'avvio dei lavori. Si tratta di una nuova struttura che avrà il compito non soltanto di fare il punto sullo stato dell'arte e analizzare le potenzialità di un'importante risorsa energetica, sostenibile, alternativa ai combustibili fossili, ma consentirà soprattutto di avanzare proposte e idee attraverso il coinvolgimento di esperti e addetti ai lavori. Faranno parte dell'Osservatorio regionale, infatti, i protagonisti coinvolti nella filiera dell'idrogeno, dai produttori di energia rinnovabile ai docenti e accademici che si occupano di ricerca, oltre agli operatori dei trasporti. I componenti esterni del gruppo di lavoro resteranno in carica tre anni e potranno essere rinnovati una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. E cambiamo ancora una volta argomento, si va verso il record del cannolo, gli ultimi preparativi dell'evento previsto domenica a Caltanissetta. Si avvicina ormai inesorabilmente il momento decisivo in cui si raggiungerà o meno il record del cannolo più lungo del mondo. I pasticceri nisseni, coordinati dal maestro pasticcere Lillo De Fraia, tra i promotori dell'iniziativa, domenica 11 settembre tenteranno di realizzare questo primato a Caltanissetta. Intanto la manifestazione organizzata dall'Associazione Ristoward Italy, insieme ad enti del territorio, come il Comune e la Camera di Commercio, con il coinvolgimento di associazioni privati, comincia già oggi pomeriggio con la presentazione dell'evento e una tavola rotonda sulle opportunità che si creeranno sul mercato per il cannolo di Caltanissetta dopo la possibile richiesta della denominazione comunale. Già ci lavoreremo proprio l'indomani del record. Facciamo un warm-up che va da 10-12 centimetri, la pesatura è da 80 grammi, quindi sarà un cannolo che appunto sarà tipico e unico per Caltanissetta e sarà riconosciuto a livello anche internazionale perché sarà prodotto ma avrà il nome, il cannolo, la tipologia del cannolo di Caltanissetta. Oltre a essere la canna, il busto del cannolo con la ricotta di pecora e capra, avrà anche la cosa che avrà il gran antico, quindi il maiorcone nell'imbasto che è la farina storica del cannolo. Poi all'esterno, diciamo, oltre a diciamo il pistacchio avrà anche il torrone di Caltanissetta, quello fatto con 8 ore di cottura a granello. Beh, il record è importante non solo perché avremo l'opportunità di battere quei 5,75 che è la lunghezza del record precedente e ce la faremo senz'altro, ma soprattutto perché daremo identità a un prodotto dolciario nisseno che sarà il cannolo di Caltanissetta. Il record a Caltanissetta ha anche un significato allegorico molto particolare. L'11 settembre ci ricordiamo cosa è successo, ospiti d'onore, i militari della base americana di Sigonella che saranno qui e quindi con loro vivremo questa giornata anche all'insegna della pace, del dialogo e del rispetto fra le persone. Abbiamo realizzato questa mega frigitrice dove abbiamo immerso la nostra cialda di cannolo e oggi pomeriggio verrà in serata sformata e domani verrà trasportata direttamente qui a Caltanissetta per essere riempita già direttamente il giorno 11 pomeriggio ed essere degustata da tutta la popolazione nissena. Dunque andare a rotolare la cialda del cannolo all'interno di questo gigantesco tubo e poi la difficoltà maggiore è stata nella frittura. A parte il calore ma questa frigitrice particolare che è stata realizzata appositamente per la realizzazione di questo Guinness ci ha dato l'opportunità di metterci in gioco veramente in questo Guinness World Record che speriamo di conquistare e dare nuovamente lusso alla nostra Sicilia che ne ha tanto di bisogno in questo momento. Andiamo allo sport San Cataldese, sabato amichevole con il Canicattì al Valentino Mazzola. In attesa del calendario del campionato dopo che il Tarra ha respinto il ricorso del Giarre le squadre del Girone I di Serie D affrontano l'ultima fase della preparazione in vista del debutto previsto il 18 settembre. Sarà un sabato di lavoro anche per la San Cataldese che alle 15.30 allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo sarà impegnata in un amichevole con il Canicattì, parigrado. L'ingresso sarà libero, si prevede una massiccia presenza di pubblico proveniente anche dal vicino centro agrigentino anche alla luce degli ottimi rapporti tra le due tifoserie. Per i Verde Amaranto sarà un'occasione importante per mettere a punto schemi e soluzioni tattiche dopo le due partite di Coppa Italia contro Catania e Paternò. Due gare che hanno evidenziato note positive e altre meno indicazioni utili a poco più di una settimana dall'inizio del campionato. C'è attesa negli ambienti calcistici sancataldesi per il calendario del Girone per conoscere la prima avversaria di un campionato che si preannuncia molto interessante. La qualità e l'importanza delle piazze impegnate da Catania a Trapani, da Cireale a Licata rappresentano certamente uno stimolo in più a far bene per la San Cataldese che oggi è la massima espressione calcistica della provincia nissena. E c'è un aggiornamento sul calendario del Girone Ireso noto nelle ultime ore. Esordio della San Cataldese al Mazzola contro il Sant'Agata. Seconda giornata sul campo del Cittanova. Derby con il Canicatì alla terza di campionato fra le partite più attese del 2022. San Cataldese a Cireale il 5 ottobre, Trapani-San Cataldese il 30 ottobre, San Cataldese-Licata il 20 novembre e San Cataldese-Catania il 4 dicembre. La partita di ritorno contro i rossazzurri al Massimino il 16 aprile 2023. E adesso andiamo all'eccellenza. Rinviata la partita fra Nissa, Oratorio Sanciro e Giorgio Di Marineo, le altre squadre di eccellenza in campo per la seconda giornata. Nissa, Oratorio Sanciro e Giorgio Di Marineo prevista per domenica 11 settembre alle ore 15 è stata rinviata a mercoledì 21 settembre alle ore 16. La variazione è stata annunciata dalla Lega Sicula in un comunicato ufficiale nel quale si fa riferimento all'indisponibilità dello stadio Marco Tomaselli dove sono in corso i lavori di collocazione del manto sintetico e all'accordo tra le due società. La prossima partita dei biancoscudati sarà dunque quella prevista il 18 settembre allo stadio Esseneto di Agrigento per un derby che si preannuncia tirato e combattuto dall'inizio alla fine. Da una parte una Nissa desiderosa di conquistare i primi punti in campionato, dall'altra un Acragas che non nasconde le mire di promozione finale. Nissa e Acragas sono impegnate peraltro anche in Coppa Italia. Entrambe le squadre hanno guadagnato l'accesso al secondo turno della competizione con Don Carlo Misilmeri, Parmonval, Resuttana San Lorenzo, Mazzarese, Sciacca, Taormina, Leonzio, Comiso, Rocca Acquedolcese, Nuova Igea, Siracusa, Palazzolo. Nonché le vincenti di Leonforte, Enna e Santa Croce Modica che si giocheranno giovedì 22 settembre. Il quadro completo delle partite in programma domenica per la seconda giornata del Girone A di eccellenza. Cus Palermo, Gela, Don Carlo Misilmeri, Mazzarese, Enna Castellammare, Mazzara, Acragas, Resuttana San Lorenzo, Profavara, Sciacca, Casteldaccia e Leonfortese, Parmonval. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità. E come sempre, grazie per averci seguito. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo. Giornata di sabato con una zona di bassa pressione oltre Alpe posizionata tra la Francia, i Paesi Bassi e le isole britanniche colma di aria più fresco oceanica. Sull'Italia situazione ancora un po' di variabilità ma diciamo che da ovest tenderà un po' ad aumentare la pressione atmosferica. Nel dettaglio, di fatti, possiamo notare meno nubi sulle nostre regioni rispetto alla giornata di venerdì. Guardiamo lo zoom precipitazioni perché comunque la giornata sarà un pochettino a tratti bagnata specie durante il pomeriggio sulle aree montuose. Nel dettaglio l'immagine dell'Italia situazione di variabilità tra sole e qualche locale temporale dicevamo soprattutto durante il pomeriggio a ridosso della catena alpina e poi anche appenninica. Comunque non mancheranno molte zone soleggiate con temperature prossime ai 30 gradi al centro nord invece supereremo i 30 gradi all'estremo sud. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trevi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Pantano, Via Don Minzoni Servizio notturno, Del Corso Corso Vittorio Emanuele Grazie a tutti. Grazie a tutti.